Ciao a tutti bellissimi e benvenuti in questa mappa molto speciale che a quanto pare ci dovrebbe far incavolare quindi direi di partire immediatamente immediata subito ah qui ci sono tipo delle robe esatto cioè in base ragazzi in base alla lana al colore della lana ti danno in pratica i superpoteri esatto hai capito perché questa mappa ragazzi interamente è fatta di cacti adesso vieni vieni con me seguimi cacti cactus cacti uguale e ci saranno ogni tot di blocchi una cosa di quelle che ti dà velocità rigenerazione eccetera eccetera però lari scusami eh infatti primo livello ragazzi grandissimi l'abbiamo completato boh c'è una tor vabbè io la mangio io non posso mangiarla eh ma perché te sei a posto io no oh mio dio ragazzi cos'è sta roba aspetta vedi sia a destra che a sinistra c'è il blocco rosso che ti dà la regen sarà una cosa infatti sono già caduto bella vlad oh oh dai che ci siamo sì ok sono sul coso della rigina sì ma togliti non devi stare solo peri su quello oh ma perché hai fatto questo salto grandissimo xd no 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 io ce la sto facendo però rischio di morire ok niente sono a posto ciao lari ciao ti odio ciao 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 ci siamo dai 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 piano 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 oh ce l'abbiamo fatta grazie c'è una torta per te il regalo grazie così data come che ho fame wow vabbè un po' troppi cactus stavolta ma perché allora in pratica mi fa danno e sto qua non riesce più a muoversi il personaggino allora cade cade lui lui deve cadere grazie poi c'è quello giallo che però non voglio sapere cos'è infatti sono caduto grazie mondo quanti livelli ci sono tipo 5 spero spero pochi vero oh dammi vita sì ma levati levati che sto per morire no no ma vedi mi hai messo fretta mi hai messo fretta e sono caduta non è vero ti odio dai non farmi far ste cose no basta adesso rimango lì sul blocco per sempre sempre va bene tanto io ce l'ho fatta grazie l'aria gentilissima il tuo sacrificio non è stato in vano uh attenzione no dai l'ultimo l'ultimo cosa che ne metà bolla 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 ciao grazie signore no ma lari le torte no 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 ma io c'ho le pozioni ma anch'io però eh va bene ma cosa cambia da una mappa all'altra me lo spieghi un attimo no 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 il tipo che l'ha creata no ma che si blocca è come se ci fosse è la terza volta che muoio di fila ripeterò questa cosa per tutta la puntata perché è la verità è la verità non giocate mai ragazzi a questa mappa non giocate mai con Lari anche a me manca poco Lari a me manca poco ti prego vivi vivi serenita Lari che pro che sei ma te la sei fatta tutta dritta si me la son fatta così proprio nazzissima che coraggio porca miseria ora mi rigenero mi son presa le passioni no Lari perché ci sono tre porte quale è quella giusta ragazzi noi andiamo di centrale io vado di centrale ma facciamo che andiamo tutti e due nella stessa cos'è sclererai malissimo sclero malissimo in sto video ce l'ho fatta sono alla porta di mezzo alla porta di mezzo ok ma lei è nazzissima se le fa tutte è incredibile io mi travo ragazzi mi sono incavolata nera ora mi rigenero io mi son fatto tutto il percorso ma è quella una porta? non lo so cioè ti dico c'è i capelli meno male c'è un corridoio nooo ce l'ho fatta ce l'ho fatta ragazzi no c'è scritto try again dobbiamo trovare un'altra porta no ma da eh vai tu vai a quella di destra no bene cioè vai a quella destra no madonna lari piango piango tra l'altro sto tirando delle botte nella scrivania che meno male che non ci avvicini no try again è l'altra è l'ultima quella di destra per forza qual è la destra ok ho capito oh ce l'ho fatta easy ciao lari addio non ho sentito un tubo ma va bene ce l'ho fatta ciao dai andiamo perché sono sono già sclerata male sono già tu è sempre la stessa cosa sempre no 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 chiudi chiudi allora non possiamo prendere sarà qualcosa sulla sinistra sarà l'ultima sinistra no perché infatti se l'altro è stato a destra per forza no no ok 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 no 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 eh no no ma sono uno scemo non sono andato sulla rigida the first challenge questa è la first challenge che uccido tutti è la first challenge quasi c'era ancora una c'era ancora una non lo so questa doveva essere l'ultima sai quelli che vedi diciamo the room non hai visto niente vero no io ne vedevo un altro sto andando a quella di sinistra estrema sinistra non c'è un tubo bene questa è chiusa scleroma basta nazi allora se non sono quelle di sinistra quelle di destra non posso essere di nuovo sarà quella centrale dai vai 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 lari che ce la puoi fare madonna quanto sei forte non è questa come no no raga se non arrivo lì se non è questa no raga non è questa è stato epico il tuo la tua il tuo sprint no sono caduto all'ultimo ma porca miseria no ho due cuoricini non ce la faccio ad arrivare lì e non hai più pozioni eh ciao ok levati 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 subito subito mi hai dato subito ok perfetto grazie vediamo un po' neanche questa Vlad neanche questa si si madonna se come chiudevo il gioco subito e qui di nuovo è quella sinistra è quella sinistra Vlad fidati vai di la stessa secondo me è quella centrale io vado a quella centrale ciao sei già caduta secondo me è la centrale è infatti è la centrale è la milano centrale man fidati è quella centrale ci sono ma la son fatta tutta dritta tra l'altro ti spawna al contrario si lo so che ti spawna al contrario non so il perchè e quindi mi viene da andare dalla parte opposta come l'hai visto si ormai stai andando in tilt mi sa vero sto tiltando e se invece non era questa scherzavo e questo mi sei sparita davanti eri qua e sei sparita no ah vabbè ma sai cos'è il problema di questi è il creatore il problema di tutta l'umanità a parte quello ma c'è anche il fatto che è lunghissimo cioè ci sono dei salti lunghissimi e uno rosso qua vabbè eh xd è qua ah ah e io sono qua ah oh no 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 allora se è stata quella centrale l'altra volta questa deve essere quella di sinistra per forza uh ultimo salto in teoria dovrebbe essere questa e se le mie supposizioni sono giuste è questa grazie meno male ma ormai è tutto sulle porte cos'è sta roba infatti no più che altro cosa sono quei tronchi infatti cosa sono sti fiori sto aspettando che tu vada un po' avanti così oh adesso ho caduto anch'io perché perché mi sono voluta così male da fare questa non fate questa non ho giocato no non so la seconda volta che lo ripeto ma mi faccio seconda seconda io mi ricordo io mi ricordo di sì si vede che l'ho detto così tante volte che mi è entrata nel sangue no ma ci sono no Laura ci sono delle leve su quei petali lì eh sì e attivano le porte no e ti devi muovo come no eh sì sono morta vai te a quella di sinistra no qual è eh sì lei va alle porte però poi non le attiva le leve ma come faccio ad arrivare lì eh bella domanda sì Vlad ma ho attivato la leva lì e io muoio senti oh 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 no ah ma aspetta questa di sinistra l'hai attivata te sì l'ho attivata Vlad però il punto è che si è chiusa l'altra non so se è giusta sta cosa come si è chiusa l'altra eh non c'è nessuna aperta eh no un salto gigante perché ma perché e io provo con quella di leva senti quello lì in mezzo si è aperto ma significa che non c'è falla tutta te la mappa faccio tutto io tanto falla tutta te perché forse è meglio eh vabbè ma qua ci sono no 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 non ho corso campioni sì ma forse forse perché poi ah no c'è c'è campioni c'è madonna che botta di di ciulo cosa cambia io me ne vado ciao facciamo che tu fai tutte quelle di destra va bene se tu fai tutte quelle di destra io faccio queste di sinistra va bene oh 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 no sono morto gorilla ho aperto una o sbaglio sì ne ho aperto una quella centrale ma quella centrale non è no vabbè raga sono troppo stanca non ce la faccio a fare una roba del genere e ce ne sono altre davanti e ce ne sono altre davanti arrivare a un livello 9 di parkour come possiamo ce ne sono altri davanti eh ce ne sono altri ce ne sono altri due o tre sei buono qua e basta non ce la faccio non ce la faccio rinunci non sono mai stata brava in ste cose mai lo sarò codarda eh ragazzi noi questo livello non riusciamo a passarlo nooo è la settantissima volta ma non ce la facciamo speriamo che comunque ragazzi se Vlad si respauna sì speriamo che questa mappa vi sia piaciuta quindi nel caso fate un like iscrivetevi solo a Vegebatto noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 a tutti